Lo chiamavano il prete in bicicletta. Non ce l'ha fatta Don Armido Grego, lo storico aiuto parroco di Rosà, tra volte ucciso ieri sera da un'auto, mentre procedeva in sella la sua inseparabile bici in via Garibaldi, a poche centinaia di metri dal centro di Rosà. Per ora ha lottato tra la vita e la morte in un letto del reparto di rianimazione di Montebelluna, dove era stato trasportato ad urgenza, in condizioni disperate, dopo che i sanitari erano riusciti con difficoltà a rianimarlo. Il religioso, 93 anni, residente in piazza Libertà accanto alla canonica, stava procedendo attorno alle 20.30 in direzione Rossano, sulla sua due ruote, quando per cause ancora al vaglio della polizia locale rosatese è stato urtato da una Toyota RAV4, che viaggiava nella stessa direzione di marcia, condotta da un 55enne del Bassanese. Un impatto tremendo, l'anziano è stato sbalzato al suolo, battendo violentemente la testa sul cordolo del marciapiede e riportando gravissimi traumi. Via Garibaldi è stata chiusa per più di due ore al traffico per permettere tutte le operazioni necessarie. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e gli agenti hanno ascoltato anche oggi i testimoni del terribile sinistro stradale. La notizia della morte del prete 93enne, conosciutissimo e amato da tutti a Rosà, ha fatto in un lampo il giro del paese, lasciando la comunità stretta nella morsa del dolore.